buongiorno ragazze buongiorno a tutte e tutti nuovo video blog baranchericcio come state spero bene allora oggi credo che si riesca non lo so perché mi sa che ormai già tardi fa troppo ma vabbè volevo fare un video di polizia non so cosa sarà cosa riuscirà fuori perché i miei video polizia sono quelli che sono quindi vabbè volevo dedicarmi la mia stanza a spolverarla perché altrimenti diventa veramente insopportabile stare con la camera tutta una propria bella quindi niente ah se ho detto questo amichetto qui è perché se lo hai posto non so cosa è successo ma lo sapevo mangiato dolci salame non ne ho idea ma vabbè dettagli e niente quindi adesso mi dedico a come dire a pulire casa cioè non casa proprio vabbè la mia stanza ok e niente allora per adesso fa un caldo bestiale ma devo pulire perché se non ci fa troppo tardi quindi aggiungiamo al termine dai anzi al termine vabbè niente sto già parlando perché ho caldo capitemi ma ho caldo quindi la mia stanza di la mia stanza di la mia stanza di la mia stanza di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.